Salve, oltre al corretto bilanciamento di contrasto e colore, sia globalmente che su specifiche zone, il compito del colorista consiste nel dare un carattere e un'atmosfera al video, secondo le indicazioni del regista o del direttore della fotografia, oppure secondo proprio gusti o, infine, secondo le aspettative e i gusti del pubblico. Sì, è davvero così. Negli anni sono diventate regole le aspettative dello spettatore ideale. Per esempio è ormai codificato che la gente ama le tonalità calde e sopporta poco il colore magenta. Un concetto fondamentale è la memoria dei colori, cioè aspettarsi che l'acqua sia sempre blu, l'erba verde e il cielo blu. Banale, vero? Però è la linea guida da seguire quando costruiamo un look ai nostri filmati, pena il disinteresse dello spettatore. Per esempio, se riprendiamo un fiume melmoso e grigio, meglio renderlo un pochino più blu perché piaccia alla gente. In realtà non esiste uno spettatore modello ed è un bene che sia così perché ci permette di giocare sulla varietà invece che fare look tutti uguali. Ma il concetto di memoria di colore resta importante perché riguarda la qualità dell'immagine percepita dallo spettatore. Tale qualità viene giudicata secondo tre aspetti del colore, la naturalezza, la policromia e la discriminabilità. La naturalezza è quanto un colore viene giudicato realistico. Non si può rendere una banana blu, a meno che non si utilizzi blu banana, ovviamente. Della colorfulness, in italiano la policromia, abbiamo già parlato nel video 14c. È definita come la pienezza del colore e ha a che fare con la saturazione, ma non è la stessa cosa. Infatti, immagini troppo o troppo poco sature sono giudicate di cattiva qualità. Il massimo della colorfulness si ha quindi entro una certa soglia di saturazione. La discriminabilità è quanto riusciamo a discernere piccoli dettagli colorati dell'immagine. Ha a che fare con il contrasto, con i vari contrasti di colore e con la saturazione. Tutti questi ragionamenti sono fatti senza considerare il tipo, la potenza e la temperatura di colore degli illuminanti presenti durante le riprese, che è un capitolo a parte quanto è vasto e importante. Ma adesso basta con le nozioni e parliamo delle tonalità della pelle. Argomento molto importante, perché in presenza di persone nel video non si può rinunciare alla color correction sulla pelle e in particolare sul viso, pena diminuire drasticamente la qualità dell'immagine. Tutte le tonalità della pelle si muovono lungo la linea I del vectoscopio, in inglese eye line, variando solo di quantità molto piccole. In queste minime variazioni sono racchiuse grandi differenze di tonalità, dalla pelle più bianca e pallida a quella più scura degli aborigeni australiani. Quindi attenzione, piccoli spostamenti sul vectoscopio portano a grandi cambiamenti di colore. Se non ci credete, leggete il libro di Van Yurkman, che riporta l'analisi di otto tipi di pelle accompagnati dal relativo vectoscopio. È incredibile vedere con i propri occhi quanto sono piccole le differenze fra i vari tipi di pelle. Osservando la pelle in un RGB parade si vede che il canale del rosso è quello più esteso, mentre quello del blu è il meno importante. Per clip con un'esposizione bilanciata, la tonalità della pelle cadono quasi esclusivamente fra i mezzi toni. Quindi è su questi che dobbiamo agire per fare correzioni. Parlo di esposizione corretta perché le dominanti di colore presenti nell'ambiente influiscano tantissimo sulla tonalità della pelle e dobbiamo assolutamente tenerne conto, sia se vogliamo correggere la dominante, sia che adeguiamo la pelle alla temperatura di colore dello sfondo. In ogni caso lo strumento principe da usare è il solito color three way. Parlando invece di saturazione, in generale cade su un raggio del 20-50% del vectoscopio, ma molto dipende dallo sfondo. Se questo è povero di colore ed esaturato, allora anche piccoli aumenti di saturazione della pelle produrranno grandi effetti visivi. Al contrario, se lo sfondo è ricco di colori vivaci, dovremo adeguarci aumentando il livello di saturazione. Inoltre, in presenza di abbronzatura, è abitudine aumentare la saturazione della pelle di un 30%, quindi non di poco. Infine dobbiamo regolare il contrasto in modo che la pelle sia il più visibile possibile, in modo da attirare l'attenzione su di sé. Ovviamente se non abbiamo motivi per fare il contrario. Si interviene sulle alte luci e sulle ombre per estendere o ridurre il contrasto, ma è importante anche regolare la luminosità dei mezzi toni, che contribuiscono per la maggior parte al tono della pelle. Saturazione e luminosità servono anche a donare traslucenza tipica della pelle. Di solito all'interno di una ripresa, e anche fra shot diversi, si cerca di mantenere costante il colore della pelle. Alexis Van Yurkman suggerisce invece di assecondare l'emotività delle varie scene, giocando su sottili variazioni di colore della pelle. L'esempio classico è esaltare l'arrostamento delle guance in un momento di emotività. Attenzione però a non esagerare per non ottenere un effetto da cartone animato. Ricapitoliamo come intervenire sulle tonalità della pelle. Sul vectoscopio vediamo la zona interessata dalla pelle che si sviluppa lungo la eye line. Modificando questa distribuzione di tonalità verso destra o alto, si tende al colorito rossastro. Spostandoci verso sinistra basso, si ottengono sfumature dorate. Allungando la zona verso una maggiore saturazione, si ottiene una bronzatura. E infini, spostandoci verso il centro del vectoscopio, si ottengono tonalità pallide. Tenendo queste linee generali in mente, facciamo alcuni esempi. Prendiamo il viso di una persona inserita in un ambiente che tende all'azzurro. In queste condizioni la resa della pelle è molto brutta, ma dobbiamo correggere anche lo sfondo, non solo il viso. Si parte quindi da una color correction primaria, bilanciando il contrasto e poi passando a scaldare le alte luci. In questo modo miglioriamo lo sfondo, ma rendiamo troppo rosso-arancio la pelle. Agiamo allora sui mezzi toni, riportando il viso ad un colore migliore, senza alterare troppo lo sfondo. Probabilmente dovremo fare una piccola correzione anche sulle ombre, ma non è detto. Quando riusciamo a fare tutto con la correzione primaria, è una fortuna in termini di velocità delle modifiche. In altri casi si può fare una maschera per limitare le modifiche alla sola figura senza influenzare lo sfondo. Questo succede soprattutto se vogliamo regolare il contrasto di un viso, mantenendo però l'equilibrio raggiunto per il resto dell'immagine. Il contrasto per un volto è importante perché permette di sfumare dettagli indesiderati rendendo la pelle liscia o, al contrario, mettere in risalto la rugosità o la barba o altri particolari. In questi casi può venire d'aiuto anche l'uso dello sharpen o del blur. Blue banana si usa quando dobbiamo isolare una parte specifica per modificarla a piacere, oppure al contrario, per proteggere una parte specifica dalle modifiche generali. Spesso si usa per isolare i capelli che devono essere corretti con cura per non comprimere tutti i dettagli in una massa nera amorfa o per non dare luogo a effetti di posterizzazione quando si agisce eccessivamente su altre parti, come per esempio illuminare il viso. Si possono usare le curve per lavori precisi e dettagliati, accettando però il maggior impegno e tempo che richiedono. L'impiego di blue banana si rivela necessario quando abbiamo a che fare con più figure, ognuna con una diversa tonalità della pelle. Per agire su una sola di esse bisogna estrarre il suo matte. Il problema è che la tonalità arancio-rosse della pelle si ritrova un po' dappertutto nelle immagini, perché sono componenti comuni in ogni zona colorata. Allora per restringere il campo ad un solo volto, escludendo tutto il resto, dobbiamo ricorrere anche alle maschere. Non solo, se la maschera di selezione si muove, dobbiamo ricorrere ai keyframe. Il lavoro può rivelarsi lungo e complicato, ma probabilmente riusciremo ad ottenere un risultato soddisfacente, perché gli HSL Qualifier e maschere dinamiche sono davvero una combinazione potente. Si può usare un trucco quando la pelle presenta troppi contrasti di luce al suo interno, il che porta zone che rendano diversamente la tonalità della pelle. Intendiamoci, la ricchezza di tonalità è un pregio, perché la pelle di un unico colore netto sembra plastica. Però se vogliamo uniformare una pelle con troppi contrasti che mal si amalgamano, allora si crea una maschera di selezione con blu banana, poi si desatura un pochino in modo da uniformare le differenze di resta dei colori. E poi, con Color Treeway, si aumenta un'unica tonalità nei soli mezzi tono, in modo da ricreare una pelle più omogenea. Attenzione però a non esagerare con la desaturazione, per non incorrere in un effetto artificiale quando incrementeremo il tono unico. Altro esempio è quando dobbiamo intervenire con forza sull'ambiente, ma non vogliamo che la pelle ne venga influenzata. Si usa ancora blu banana per separare la pelle dall'ambiente. Poi si fanno due correzioni, una sulla maschera di selezione per fare il grading della pelle e una sull'inverso della maschera di selezione per fare il grading dell'ambiente. Tutti questi esempi, e tanti di più, cui ho semplicemente accennato, sono trattati passo passo in casi reali nel libro Color Correction Handbook. Per esempio parla di come rendere una persona un vampiro o uno zombie. Vi ho incuriositi, vero? Passiamo a parlare del cielo. Succede spesso che risulti solo a esposto, bianco, o con altri difetti che lo allontanano da una resa ottimale di un bel blu. Similmente alla tonalità della pelle, i toni del cielo si riuniscano intorno all'eye line, lungo l'opposto negativo però, e se ne discostano solo marginalmente, proprio come si era detto per la pelle. Per poter intervenire sul cielo, dobbiamo capire che non deve mai essere un colore uniforme, ma deve presentare un gradiente che va da un blu più intenso fino a un celeste chiaro vicino alla linea dell'orizzonte. tale gradiente deve anche presentare un'angolazione che dipende dalla posizione del sole. Probabilmente, se non rientra nell'inquadratura e ci troviamo nella sua posizione più alta, cioè a mezzogiorno, il gradiente sarà verticale dall'alto verso il basso. Anche la saturazione passa da valori più accesi in alto, circa il 50-60%, diminuendo mentre scende verso il suolo. Può arrivare anche a zero. Al contrario, la luminosità è più alta vicino alla linea dell'orizzonte e tende a diminuire salendo verso l'alto. Però si deve anche tener conto del tipo e del colore del suolo che può influire pesantemente sul gradiente del cielo. Tutti questi comportamenti sono dovuti al fenomeno della rifrazione chiamato Highlight Scattering. Immagini debbiose o fumose possono essere migliorate aumentando il contrasto per rendere più evidenti i particolari, mantenendo comunque la nebbia. Come al solito, la cosa migliore è fare buone riprese. Siccome il cielo è sempre sovraesposto rispetto al terreno, si possono fare le riprese utilizzando un filtro polarizzatore o anche, se possibile, un filtro neutro, cioè gli ND, graduato. Comunque possiamo fare molto in post-produzione l'intervento più semplice sarebbe di agire sulle curve di tonalità che però, purtroppo, SineLerda GG non possiede. Possiamo invece usare Blue Banana. Prima osserviamo un cielo sereno con il Wave Form. Si vede che i valori si concentrano nell'intervallo 60-70% e cioè sui mezzi toni. Creata la nostra maschera di selezione, possiamo intervenire su tonalità, saturazione e luminosità per arrivare al cielo desiderato. Per regolare precisamente tonalità e saturazione, ci basiamo invece sul Vectoscope che ci aiuta a non andare oltre il 50% per non ottenere un effetto artificiale. In inglese si dice Neon Light Sky. Con questi interventi non troppo invasivi si riesce a mantenere il gradiente del cielo originale mantenendo un effetto naturalistico. Se invece dobbiamo ricorrere al filtro gradiente o alla vignettatura, dobbiamo stare molto attenti per ottenere un buon risultato. Siamo costretti a questa pratica quando il cielo è completamente sovraesposto e quindi bianco. Nonostante sia facile estrarre una maschera di selezione, quando sostituiamo il blu al bianco stiamo semplicemente rimpiazzando una chiazza omogenea ad un'altra, seppure di un bel blu. In altri casi può essere utile restringere le zone di intervento con una maschera, quindi senza usare blu banana, bilanciando i colori nei medi con Color Treeway e applicando poi il nostro gradiente. Passiamo ai tramonti. Siccome un tramonto dura poco e inoltre mentre il sole scende varia la sua temperatura di colore, nel cinema in genere non si fanno riprese al tramonto perché non c'è abbastanza tempo. Si fanno nel tardo pomeriggio e poi si corregano i colori in post-produzione. Si possono dividere tre fasi del tramonto. Il pomeriggio, che ha una temperatura di colore di 5.000 Kelvin. L'ora dorata, cioè un'ora prima del tramonto, che ha una temperatura di 3.000 Kelvin. E la fine del tramonto, dove l'ultimo sole visibile, ha una temperatura di 1.600 Kelvin. Come si vede, c'è una grossa variazione di cui dobbiamo tenere conto. In ambito casalingo e hobbystico, possiamo benissimo girare i nostri video sfruttando tutte le fasi del tramonto, che ci piacciono, e intervenire in color correction solo se c'è da migliorare qualcosa. Un esempio potrebbe essere far sembrare una scena a ripresa di giorno come se fosse ambientata al tramonto. Non mi soffermo sui dettagli, perché le tecniche le abbiamo viste nei video scorsi. I passi da fare sono studiare lo shot e correggere l'esposizione dell'immagine. Poi rendere più profonde le ombre, infatti al tramonto c'è meno luce. Ancora scaldare i mezzi toni. Poi abbassare il contrasto nelle alte luci. Isolare le alte luci e ammorbidirle mettendo del blur sui bordi del matte. Infine scaldare le alte luci dirigendosi con decisione verso il giallo-arancio. Altri esempi riguardano il rendere più drammatico un tramonto scaldando il cielo in generale, oppure rendere più evidenti e impressionanti le nuvole di un cielo sereno. Se volete le guide passo a passo leggete Color Correction Handbook. Passiamo brevemente al verde di erba e foglie che è il terzo importante Memory Color. La chlorophyll assorbe fortemente frequenze blu-violetto e in misura minore le frequenze rosso-arancio. Il risultato è una gamma di verdi che spaziano dal verde-giallastro al verde-bluastro. Questa grande varietà di tonalità è ulteriormente accresciuta dall'ora del giorno, dalle stagioni e dallo stadio di sviluppo della foglia o dell'erba. Per regolare il fogliame vengono usate soprattutto le curve di tonalità che però se nell'RGG non possiede. Dobbiamo arrangiarci con blu-banana, curve e color-tree-way. Ma non è un problema perché generalmente il verde non entra nelle figure e rimane confinato nello sfondo, quindi è abbastanza facile isolarlo o regolarlo senza influenzare i soggetti umani. Oltre che RGB Parade è molto utile il vertoscopio per controllare le regolazioni che facciamo sul verde e per rendersi conto che ad una grande varietà di verdi corrisponde invece una relativamente piccola zona concentrata nel vertoscopio. Non farò esempi, anzi li lascio a voi come esercizio perché questo video è durato abbastanza. Grazie a tutti.